Ciao a tutti ragazzi, sono Dav, vi do il benvenuto in questo nuovo video, stiamo oggi con il terzo episodio del ROTU prima divisione come vedete stiamo andando ad acquistare dopo aver vinto la divisione, quindi un bel po' di crediti nelle nostre tasche abbiamo fatto l'acquisto più oneroso del nostro club finora perché di terzini di sinistra, oro non rari, c'è solo Raduraga perché gli altri davvero costano tantissimo Evra e Ashley Cole superano i 5000 crediti, andiamo a inserirlo quindi nel suo ruolo, questa è la formazione che andiamo ad affrontare anche lui con una serie A, anche lui in fase di costruzione, come vedete il suo bomber lì davanti è il Nino Torres siamo al 36 minuto e guardate Shamac che è fucilata da fuori aria, firmiamo subito il gol dell'1-0 quindi ci imponiamo subito in partita il gol di Shamac, bellissima la conclusione da fuori aria rivediamo il tiro davvero fantastico, per l'1-0 non finisce qui perché qui è Origi che mette il turbo siamo sempre al primo tempo, trentesimo minuto, scarica anche lui una fucilata sul secondo palo per il gol che ci porta sul doppio vantaggio, quindi 2-0 dei nostri, qua è Shamac invece a verticalizzare per il nostro bomber Florenzi sempre 3-0 per i nostri, siamo al 42esimo, non c'è partita per il nostro avversario, rivediamo il gol di Alessandro Florenzi per il 3-0, siamo al secondo tempo ragazzi e qua ci spegniamo un po', guardate cosa fa l'Ignutore se riesce a saltare più in alto di tutti, un'incomprensione un po' tra la difesa e il portiere che porta al gol del 3-1 guardate qua ragazzi l'Euro goal di Gazzola, siamo all'ottantottesimo minuto da 30 metri tira una fucilata paurosa, fa bene ad esultare perché è davvero un gol fantastico il suo non ci sarà più tempo però perché riusciamo a concludere la partita stando sempre davanti e quindi 3-2, 3 punti guadagnati subito nella prima partita d'esordio in nona divisione andiamo ad acquistare uno dei centrocampisti centrali più forti della serie A per quanto riguarda i oro non orari, si tratta di Romulo, andiamo subito ad inserirlo proprio nel suo ruolo che poi cambieremo con Onazzi perché avremo sicuramente un'intesa migliore come vedete raga questa partita è alla conclusione, abbiamo vinto per 2-1 ma come è solito in questi giorni spesso e volentieri i server butta fuori dall'altime team ed è proprio in questo caso che noi andiamo a perdere una partita che abbiamo vinto 2-1 quindi a rovinarci lo storico e quindi incredibilmente ragazzi ci ha buttato fuori dall'altime team e andiamo a perdere questa partita dopo che avevamo vinto per 2-1 va bene così non ci possiamo far nulla seconda partita di oggi andiamo subito in vantaggio al 35esimo minuto vediamo l'azione stupenda di questo giocatore che ha sostituito Grimaldi che era in panchina, poi Florenzi segna il gol del 2-0 siamo nella ripresa che firma ancora Florenzi l'ennesimo gol di questo gioiellino che mi sta facendo davvero una stagione stupenda davvero Florenzi dunque mette fine ai giochi per il mio avversario quindi 471 crediti guadagnati, seconda vittoria e come vedete ragazzi lo storico segna anche la sconfitta incredibilmente davvero questa cosa mi ha fatto arrabbiare tantissimo con i crediti guadagnati andiamo ad acquistare un difensore centrale davvero davvero fantastico che è il nostro Angelino Ogbonna 77 di overall, statistiche paurose lo andiamo ad inserire per avere finalmente la difesa completamente della serie A terza ed ultima partita di oggi andiamo ad affrontare questo avversario partita ostica davvero che riusciamo a sbloccare al 23esimo un Azzi qui confeziona un assist favoloso dopo aver fintato il tiro per il sinistro di Shamac che non può assolutamente sbagliare incrociando sul secondo palo rivediamo bellissimo il lavoro di Onazzi poi Shamac ad incrociare segna il gol dell'1-0 non ci saranno più occasioni questo è ancora Shamac che entrando in area colpisce il palo sfortunato qua il nostro bomber marocchino poi guardate allo scadere siamo all'89esimo arriva il miracolo di Neto che salva il match e lo mantiene sul risultato di 1-0 437 crediti guadagnati raga e possiamo andare ad aggiungere altri 3 punti questo episodio termina qui raga mi raccomando consigliatemi i giocatori da acquistare lasciate un like, commentate iscrivetevi al canale postate la pagina Facebook e noi ci vediamo al prossimo video bella bomber e noi ci vediamo al prossimo video